Ma per come la vedo io purtroppo potevamo fare qualcosina di meglio soprattutto nel quarto set a mio avviso dopo i primi tre set di un po' di alti e bassi sicuramente bene il primo e il terzo set abbiamo subito il secondo set come ci si poteva aspettare insomma loro hanno alzato il livello della battuta hanno fatto sicuramente una grande partita in difesa forse potevamo fare sicuramente qualcosa in rigiocata meglio nel quarto set per rimanere attaccati fino a fine set e poi purtroppo il tie break sappiamo che è sempre difficile siamo partiti male, siamo rientrati in partita e poi si gioca punto a punto purtroppo questa volta non siamo riusciti a portare a casa il quinto set loro sicuramente una grande partita in difesa adesso insomma dobbiamo già pensare a cancellare, prendere quanto di buono ho fatto stasera e pensare alla prossima